vediamo come accedere al trip database per accedere al trip database entriamo nel sito della biblioteca quindi www.biblio.unimib.it nella sezione accesso rapido troviamo metabib biblioteca digitale il portale attraverso il quale entriamo nelle risorse elettroniche della biblioteca possiamo accedere alle banche dati e scaricare gli articoli anche dall'esterno della rete di ateneo alla pagina accesso da casa alle risorse elettroniche trovi tutti i dettagli sull'accesso remoto entro il metabib il modo più veloce per accedere al trip database è selezionare trova banche dati e digitare il nome della banca dati quindi scrivo trip lo seleziono ecco l'home page del trip database della versione pro